Mi sono laureato qui a Caffoscari nel 1991, ho lavorato nel primo periodo dopo la laurea in aziende di famiglia, nel 1993-94 sono tornato nell'amata Venezia per frequentare il master in marketing e comunicazione d'azienda, allora diretto dal professor Collesei, dopodiché ho iniziato il mio percorso lavorativo vero e proprio, prima con un breve passaggio nel mondo della grande distribuzione e poi nel mondo dell'auto. Una passione avuta fin da ragazzo che ha avuto coronamento con un percorso di carriera che grazie anche a tappe di sviluppo dell'azienda mi ha consentito di raggiungere una posizione di cui sono molto felice. Uno dei passaggi essenziali di questo percorso è stata sicuramente l'esposizione ad un ambiente di tipo internazionale che ha fornito stimoli, spunti e contributi che via via mi hanno consentito di migliorare. Però facendo un passo indietro e ripensando al periodo degli studi mi vengono in mente esami che all'epoca forse non consideravo così affini o così importanti per il mio cammino universitario, per il mio cammino professionale e che invece nel tempo poi si sono rivelati preziosi. Ecco che subentra un tema che è quello della trasversalità, quello della flessibilità. Oggi le aziende cercano persone giovani con competenze, con professionalità ma anche con energia, con la capacità di trasformare le intenzioni in azioni che producano risultati. Le aziende cercano figure non di impiegati ma di impiegabili, che siano trasversali, che siano disposti a leggere i fenomeni da angolazioni e da prospettive diverse e che sappiano anche se necessario cambiare di ruolo con dei passaggi trasversali che sono utilissimi a completare il profilo personale e professionale. Le aziende hanno bisogno di persone molto motivate, come dicevo con molta energia e quindi fino al percorso di studi è indispensabile abituarsi a definire una propria strategia, a definire una propria roadmap, a definire degli obiettivi e a darsi dei tempi, individuando anticipatamente le contromisure da porre in essere qualora strada facendo questi obiettivi si dimostrassero improbabili oppure non venissero raggiunti. La definizione di un cosiddetto piano B diventa un punto focale e un elemento cruciale della propria strategia. Nella mia esperienza professionale ho avuto modo di lavorare con più di 50 stagiaire, credo molto nell'esperienza dello stage, naturalmente quando si tratti di un vero stage con un contenuto che determini un arricchimento dello stagiaire e negli oltre 50 giovani che ho avuto con me ho avuto la possibilità di trovare tanto entusiasmo, tanta voglia, però negli ultimi tempi ho anche riscontrato una certa debolezza e ho constatato come un percorso di studi molto strutturato che offre senz'altro grande qualità e grande contenuto qualche volta determini anche il fatto che lo studente fatica a definire un proprio cammino, a tracciare un proprio sentiero. Si tratta di casi in cui i risultati di studi spesso poi trovano un momento di spesamento, di difficoltà nel momento in cui ci si rivolge al mondo del lavoro perché non si è sviluppata adeguatamente una propria strategia e una propria personale visione. Questo invece è fondamentale e devo dire che l'età in cui si arriva a fare il passaggio dal mondo dello studio al mondo del lavoro, la professionalità senz'altro la competenza ma anche proprio la capacità di impostare una propria strategia insieme vale la pena di sottolinearlo alla conoscenza delle lingue straniere sono senz'altro un vantaggio competitivo soprattutto in un momento in cui e in un mondo in cui i giovani devono guardare sempre di più a un contesto internazionale. Guardare a un contesto internazionale significa confrontarsi con una concorrenza molto agguerrita probabilmente più abituata dei giovani italiani a una certa mobilità, più abituata dei giovani italiani ad una certa situazione se vogliamo di precarietà che si legge in positivo come flessibilità. come disponibilità a sperimentare. Allora il proprio cammino deve essere tracciato con una visione chiara con degli obiettivi precisi ma non deve diventare un vincolo e quindi i percorsi che normalmente si considerano paralleli talvolta invece possono intersecare la propria via e determinare quelle contaminazioni che consentono poi come dicevo di leggere i fenomeni aziendali in modo trasversale. È un vantaggio competitivo ed è sicuramente una marcia in più per i giovani che affrontano il mondo del lavoro. Grazie. 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 Grazie.